piccolo coltello tattico ex dotazione esercio italiano anni 70 80 fabbricato interamente in italia le piccole imperfezioni e sbavature le 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 scarse rifiniture sono dovute al fatto che veniva prodotto migliaia migliaia di pezzi per essere dato in dotazione a tutti i reparti che lo utilizzavano per impieghi operativi di campo di lavori pratici non di sicuro come arma combattimento lama molto tagliente e affilata in acciaio apri scatole molto solido e robusto non dare lo spessore una bella punta no attenzione perché non ha l'antiritorno entrambe le lame vanno ripiegate facendo attenzione a non mettere le dita sotto l'esterno in polimero nero antiscivolo zigrinato ed ha un anellino un anellino per legarlo a un eventuale cordino solido e ben fatto prodotto interamente in italia